Ciao, nuovo vlog, eh? Che ne dite? Ci mettiamo qua una mezz'oretta e parliamo un po' a caso, a occhio, come viene e viene, di tutto quello che ho fatto durante quest'estate, almeno alcune delle cose, tanti computer, alcuni purtroppo non sono più qua, però mi voglio un attimo, mi voglio un attimo, ecco, diciamo, rilassare e parlare a braccio di come, di quali piani ho per superare l'inverno. Come vedete le robe non mancano, però voglio prima togliermi dalle scatole un po' di cosette spicce, veloci, veloci, veloci. La prima che vi dico riguarda la marea, la marea, la tastiera marea. Allora, con Mattia ci siamo sentiti un paio di settimane fa e abbiamo iniziato a parlare della marea V2, che arriverà nel 2024, cioè una roba, abbiamo semplicemente, ci siamo semplicemente risentiti dopo tanto tempo e abbiamo detto ok, che idee hai per la prossima, cosa facciamo? E abbiamo messo giù due o tre cosette, cercando adesso di capire se si possono fare. Mattia farà ancora una volta il progettista, quindi il progetto sarà suo, tutta la parte hardware, io mi occuperò di tutta la parte poi successiva, quindi ok, io la vorrei così, la puoi fare così, si può fare, costa tanto, ci sono impicci, ti piace, non ti piace, poi i poggiapolsi, le custodie, tante altre cose, insomma tutta una serie di robette che vorrei fare. Come avevo detto tempo fa, non sarà migliore e più bella di quella vecchia, sarà diversa da quella vecchia. Non tantissimo, perché insomma il concetto ci piace, però sarà diversa, quindi una tastiera diversa, in tutto e per tutto. Prima però di parlare della Marea V2, state tranquilli, vi romperò le scatole all'infinito poi quando sarà il momento di arrivarci. Prima ci sarà un altro lotto di Marea tradizionale, ho 10 schede, ho ordinato 10 schede, sono arrivate, ho tutti i pezzi per farle, mi sto facendo fare da mamma dei poggiapolsi, anzi dei tappetini che poi diventano dei poggiapolsi all'uncinetto con la lana, una roba che era la fine del mondo veramente, veramente poi li vedrete spettacolari. Insomma queste 10 tastiere da dar via, penso di farle per Natale, poi vi aggiornerò, vi dirò, c'è la newsletter della Marea se volete i dettagli su queste cose, andate lì e vedete, iscrivetevi e quando sarà il momento di, ok, le posso vendere, chi le vuole. Poi mi sono arrivati, anzi no, prima di parlare di cosa mi è arrivato, voglio parlare un attimo di monitor, di monitor, perché lo vedete là, guardate qua, c'è questa roba qua, questa roba qua, questo è un monitor ISO da 19 pollici, IPS con 1080x1024 di risoluzione, bianco con un design vintage che è meraviglioso perché comunque è molto moderno e ha un pannello meraviglioso, ha un pannello meraviglioso, tutto già calibrato, tutto pronto, addirittura la porta displayport sul fondo, l'ho preso sui mercatini, l'ho pagato mi pare 40 euro, guardate questi monitor, soprattutto se li comprate di qualità, non prendete roba TN che veramente al giorno d'oggi è difficile da accettare, ma un IPS così, 19 con questo formato, poi ci ho messo sopra, Alpine Linux, dietro nascosto c'è un Nook con appunto Alpine, 8 giga di RAM, è un Nook che con Fedora era praticamente GNOM, era inutilizzabile, lo usavo ogni tanto per fare qualcosa, vi avevo parlato quando si parlava di sicurezza, di avere un computer dedicato per fare certe operazioni, usare solo per quello, io fino a poco fa usavo quello e quindi lo usavo ogni tanto, lo accendevo ogni tanto, però era lento, cioè era inutilizzabile, veramente due cose, con Alpine è rinato, dopo vi parlerò del sistema operativo di Alpine perché lo sto mettendo ovunque come vedete, ed è veramente di una comodità unica avere un computer acceso qua così solo per diciamo navigare o fare cose semplici, perché proprio questo volevo fare, volevo evitare di tenere accesa la workstation che ho qua davanti, quella grossa, il Ryzen e tutte le pippe, perché consuma molto di più e perché poi alla fine mi costringe a stare in piedi, a stare seduto, quindi controllate nei mercatini e se vi va un sistema del genere prendetelo perché è bellissimo. E poi l'ultima cosa, sempre a proposito di monitor, poi la chiudo, ho attaccato al muro il mio monitor MSI, il modello che vi ho fatto vedere qualche tempo fa l'anno scorso, perché lo sto usando poco in realtà e quindi mi sono detto no, quello lo devo usare per il montaggio video perché è un 4k con supporto P3, bellissimo, tra l'altro veramente veramente bello, e l'ho attaccato così al muro, ho comprato una di quelle basi per attaccarlo al muro diretto, senza allegorazione, e è andata bene, devo dire, dopo un po' di buchi nel muro, un po' di prove, sono riuscito ad attaccarlo all'altezza giusta, e me lo sono messo qua accanto e adesso lo uso con un piccolo tavolinetto, questo è un vassoietto da lavoro Ikea, non da lavoro, da cucina, di quelli da letto, vassoio portavivande Ikea, che devo ancora finire, devo ottimizzare un pochetto, farci due buchi, insomma vabbè, lo metto là e mi metto in piedi per, è collegato ovviamente il monitor, è collegato alla workstation, quindi praticamente ci posso far tutto, dal montaggio alla scrittura, così alterno ancora di più, tra seduto con la sedia normale, seduto con la sedia ergonomica, in piedi qui e poi tutta sta roba qua, tutta sta roba qua, e quindi posso stare in giro, muovermi e far quello che mi pare qua dentro, è incredibile quanto ho riempito questa stanza di cose, e quando l'ho fatta, cioè quando ho tolto l'alberia che c'era, volevo mantenere un profilo minimale, no, sei andato a vedere su Instagram, pubblicai una foto appena tutto montato e c'era nulla, no, c'era la parete con tre attrezzini, mi ero detto qua ci metto solo le cose necessarie, proprio quelle che mi servono e poi il resto deve andare nell'altra stanza, perché qui mi serve solo quello che uso realmente, e ora sono circondato da roba, non solo, vedete, ho messo anche un altro porta netbook là dietro, no, vedete, con il Nokia sopra, perché qua c'è un altro computer, adesso ve lo farò vedere, tra l'altro quei porta netbook, quelli non sono porta netbook, perché spesso ve lo chiedete nei commenti, sono dei porta riviste Ikea montati a rovescio, se voi andate da Ikea nel reparto, adesso poi magari a schermo vi metterò il nome del prodotto, così lo potete vedere, se voi andate nel reparto dove ci sono queste cose qua, no, per il muro, gli appendini, come si chiamano, le pareti attrezzate, ci sono anche quegli affari là, voi poi li montate al contrario, schiacciate un pochetto l'apertura, perché sono un pochetto più aperti, e ci mettete il netbook, o il portatile, vanno attaccati al muro con due viti, sono carini, belli, bianchi, laccati, se fossero anche scolorati sarebbero ancora più carini, e insomma, qua dentro sono pieno di roba, sono pieno di roba, non vi faccio vedere quello che c'è qua sotto, perché è ancora peggio, poi adesso mi sta arrivando un altro incisore laser, per le prossime cose, perché vorrei fare un cyberdeck, insomma, mi sono fatto mandare una roba molto molto bella, più avvoluta di quella di prima, che andò a finirla dietro, ah, poi ci sono anche queste, non so se le avete notate, queste due Sony, eh, ve le devo far vedere, oh, sto andando proprio a braccio, cioè, non si capisce niente in questo video, guardate che meraviglia, cioè, ma guardate quanto sono grossi, cioè, guardate, guardate che meraviglia, queste sono delle SSX2A, sono delle, sono delle casse che si usano, delle casse passive, schermate fatte apposta per mettere, per essere messe ai lati dei CRT, oppure in questo caso anche degli steri, ci sono le X1A, X2A, X6A, X7A, e ognuna ha la sua, ha la sua caratteristica, io, sul CRT di solito, anche a livello gaming, si usa molto la, si usano molto le X6A, che sono più piccole e sono nere, ve l'ho fatta vedere tempo fa, queste sono le 2A, e sono enormi, cioè, sono grosse il doppio rispetto a quelle che io pensavo, perché io ho avuto anche le X1A, che sono uguali a quelle, sono piccole, no, e pensavo fossero identiche. Sapevo che queste avevano un suono particolare, insomma, una nomea particolare in rete, però quando sono arrivati ho detto, cavolo, ci credo che sono, quanto sono grosse, li ho comprati da un ragazzo che non aveva la minima idea di cosa, di cosa avevo in mano, però è stato molto carino, molto gentile, ha accettato la mia offerta davvero, davvero bassa, e quindi va bene così. Adesso le terrò un po' qua, e poi le venderò probabilmente, perché non so resistere alla tentazione di fare un piccolo profitto, poi non mi servono, non mi servono perché a livello di monitor CRT sono a posto, anzi. Giorni fa un ragazzo mi ha regalato, un ragazzo della community mi ha regalato, mi ha scritto quest'estate, ci siamo visti, mi ha regalato un CRT 17 pollici, un Flatron di LG, con tutta la scatola nuova, veramente messo, messo nuovo, la scatola anche nuova, ce l'ho là accanto, accanto al tavolino, con la scatola, perché non so dove metterlo, e praticamente è grosso quanto un tavolinetto da quattro, e non so dove metterlo. Volevo, cioè ho una mezza idea di cosa farci, perché per questo motivo lo sono andato a prendere, l'ho accettato, ho una mezza idea di cosa farci, tra l'altro non so se riuscite a vedere, ma qua dietro, mamma mia quante cose vi devo far vedere. Allora, vi faccio vedere questo, guardate, questa cosa è fantastica, questa cosa è un braccio per monitor CRT, avete presente i bracci per i monitor, i supporti monitor, questo è per i CRT, e supporto il CRT fino a 25 kg, cioè, e quando l'ho comprato al ragazzo che lo vendiva quest'estate, perché l'ho trovato così per caso, e ho detto, scusa, riusciamo, insomma, l'ho fatto un prezzo, e quello mi ha detto, guarda, quell'affare pesa da 40 kg, non pensare di poterlo spedire con 5 euro, in effetti pesa una tonnellata, perché deve reggere un monitor da 25 kg su tutta la lunghezza del braccio, ma è un blocco di metallo dentro, non so dove montarlo, infatti lui mi ha detto, lo vendo, perché io non ho un tavolo sufficientemente grosso per attaccarlo, no? Io forse ce l'ho il tavolo, infatti volevo metterlo sul monitor là, ma sono cose che, boh, forse sono, spero siano passate, voglio dire, spero che mi passino di mente queste cose per andare avanti, liberarmi un po' dallo spazio. Poi, basta, questa è la fine prima parte, bevo e iniziamo la seconda parte. Vi volevo far vedere questi microfoni wireless di Holyland, il Arc Max, che avete sentito fino adesso, perché li sto usando per registrare, tutto in modalità automatica, non ho smanettato con nulla, non ho regolato nulla, ho semplicemente usato una modalità automatica senza toccare le regolazioni, perché ci sono tante regolazioni che si possono fare sia sul ricevitore, anzi soprattutto sul ricevitore, che adesso è attaccato sopra la macchina, non lo vedete, e poi ci sono due trasmettitori nel mio kit, uno che ce l'ho attaccato qua, che è adesso attaccato con, vedete, sotto ho una collanina con il magnete che sta sotto e poi è attaccato il microfono con il magnete qua sotto, in questo modo non, sotto la maglietta, no vedete, in questo modo non, questo non tira giù, per quanto leggero, però di solito tende sempre a tirare un pochetto la maglietta, però lo potete usare in mille modi, lo potete usare con un lavelier ovviamente esterno, lo potete usare come singolo registratore, no? faccio vedere, questo è il trasmettitore, no? Il microfonino, diciamo, guardate quanto è piccolo, ma è costruito, adesso vi faccio vedere, vi metto su schermo un po' di schermate, di registrazioni, di quando ho aperto la confezione, questo è proprio nuovo, non ho nemmeno ancora, non ho nemmeno ancora tolto le plastiche, e questo lo potete usare anche come dispositivo di registrazione, cioè come microfono stand alone, perché questo ha 8 giga di memoria interna, 8 giga, premete il tasto REC, c'è anche il tastino per attivare la riduzione del rumore, filtro antrivento, la mascherina che si mette sopra, e parlate, lo usate per registrare quando siete in giro, se dovete fare un'intervista, se dovete, per un giornalista, una persona che fa interviste, che va in giro, che fa podcast, o chi fa video così, chi fa video in giro soprattutto, per me forse è un po' sprecato, perché io a casa così potrei semplicemente attaccare il cavo, però questo è la comodità, ma io soprattutto non mi aspettavo una qualità del genere nell'accessorio, vedete questa è la docking station di ricarica praticamente, dentro ci vanno i due trasmettitori, il ricevitore, lo mettete dentro, qua davanti vengono fuori i led che vi dicono lo stato, dietro c'è la usbc, ma arriva in una confezione tra l'altro che è piena di roba, cavi, cavetti per collegarlo a tutti i telefoni possibili, immaginabili, sacchettini per portare singolarmente i vari microfoni, questo collare appunto che vi ho detto prima che è incluso nella mia versione kit, questo magnete anche qua dietro che permette di attaccarlo dietro la maglia, dietro la camicia, quello che vi pare, anche al contrario io posso mettere, usiamo, questo fuori, il microfono all'interno della maglietta per non farlo vedere e ho provato ieri a fare un test e non si sente il fuscio della maglietta, insomma sono microfoni, ora non voglio fare una recensione perché li sto usando per da poco e non è questo il mio scopo, però sono microfoni che dal punto di vista costruttivo sono veramente veramente belli, solidi e tutto il resto, hanno autonomie sia di dati sia di batteria di durata per una vita, veramente ore e ore e ore di registrazione, tra l'altro a me hanno mandato nel kit anche questo piccolo laverè che è loro, però si può mettere qualsiasi tipo di laverè, cioè il jack da 3.5 e voi avete il vostro, uno più buono, quello che più vi piace, calatimbica che vi piace perché questi sono microfoni omnidirezionali, tra l'altro hanno anche la possibilità di fare un backup della traccia che state facendo, un backup a volume più basso, quindi per essere proprio super sicuri di portare a casa la roba, belli! Poi a proposito di provare provare, parliamo di laptop, allora questo vi faccio vedere al volo, è un ThinkPad X1 di undicesima generazione, pannello OLED, un botto di RAM, un botto di SSD, non l'ho ancora nemmeno smontato, questo certifica un po' quanto l'ho usato, ci ho installato Linux ma è rimasto veramente lì perché ho avuto da fare con altro, lì c'è tanta RAM e ci voglio smanettare un po' con la RAM perché sono nella fase della vita in cui voglio usare la RAM. Però in tutto questo vi dicevo provate, provate e ci farò un video dedicato, provate a cercare online un Dell Chromebook come questo. Questo è un Dell Chromebook 3100, processore N4000, 4 GB di RAM, 64 GB di MMC in questo caso, una batteria bella grossa, fanless, sotto c'è gli adesivi per convertire la tastiera. Questo non è il modello 360, c'è anche il modello che si cappotta a 360, quindi lo schermo di questo è opaco e questa roba qua nasce con Chrome OS, però Chrome OS non è più aggiornato su questi prodotti qua. Mi sembra che arrivi all'edizione di novembre 2022, non una tragedia, però insomma non è nuovo. Questi qua si trovano nei mercatini a 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 euro. Diciamo senza parlare proprio delle occasioni, 80 euro, 90 euro, 100 euro, dai. E sono macchinette che con Linux vi danno delle soddisfazioni. Allora io qua ci ho messo Alpine Linux. Alpine Linux, poi ci farò un video per farvi vedere, con una nuova Ryze, sto smanettando, e senza farla girare il RAM, perché volendo si può anche far girare tutto il RAM, ovvero all'avvio il sistema che è installato nel disco, all'avvio però si sposta il RAM, quindi voi aspettate quei secondi in più di caricami di spostamento il RAM e poi da quel momento in poi gira il RAM. E secondo voi il RAM come gira? Un sistema minimale del genere con Alpine che di suo è veramente nullo? Considerate che io, un ambiente del genere, che ha Firefox, ha VS Code, ha tutto l'ambiente pronto, ha file manager, ovviamente una roba minimale, non roba per farci girare poi macchine virtuali, farci montaggio Premiere 4K, non mi venite a dire poi, eh ma io con il Mac M1 vado meglio. Questa è una roba che ci puoi navigare, ci puoi fare pratica con Linux, puoi diventare un esperto magari diciamo di Linux o del tuo settore o per la programmazione. Io ci ho messo VS Code per pigrizia, però volendo qui ci metti una bella configurazione, un bel setup di NeoVim, con gli script nuovi che adesso ci sono in rete, con il supporto Lua, vengono fuori veramente delle cose bellissime, perdi un pomeriggio a configurare tutto quanto, però poi c'è una macchinetta che è la fine del mondo e soprattutto, soprattutto, tra l'altro macchinetta che è la fine del mondo, che consuma 2W, 3W, perché questo processore Celeron con TLP e un po' di ottimizzazioni su Linux mi consuma 2-3W. Cioè, qui c'è una batteria che è praticamente nuova perché ha solo 50 cicli, ma sta acceso due giorni, va in stand-by e praticamente non consuma nulla. E ripeto, è una macchinetta da 60-70€. Però, vi dicevo, una macchina del genere vi fa anche diventare un po' esperti, no? Spesso mi scrivete chiedendomi cose, dicendo, eh, però io non lo so fare, non sono un esperto, non lo so come mi aiuti. Sì, ti do una strada da seguire, ti dico, guarda, questo, quello, prova così o ti do qualche spunto, però il resto lo devi fare tu e non sei un esperto. Diventalo! Inizia! Voglio dire, soprattutto tu ce lo devi fare per divertimento, per giocarci, no? Senza andare a fare troppe stranezze, ma prendi Alpine, ti leggi il wiki, fai l'installer, e a quel punto hai un ambiente da terminale che è pronto per essere configurato. Ci metti il server grafico, ci metti un ambiente operativo. Io qua sto usando LabVC, che è un gestore non tiling, a finestra, classico, però specifico per Wayland, super minimale, sto seguendo il suo sviluppo da un annetto. e è molto, molto bello, mi piace molto come pensa, come la, come, mi piace molto anche questa cosa fare, no? Seguire un progetto su GitHub e proprio abbonarmi a tutte le issue e tutte le cose loro, così ogni mail che loro si scambiano praticamente mi arriva una notifica, e io piano piano me le guardo. E in quel modo mi rendo anche conto come il, cioè, che spirito c'è, no? Che ambiente c'è in quella community. E loro sono belli, mi piace, mi piace come ragionano, con calma, senza euforia, sempre molto educati, facendo le cose con il gusto di farlo, sempre cercando di scrivere codici allo stato dell'arte, no? Mantenendo una scaletta, quella è, quella si mantiene. E sta venendo fuori un Windows Manager, che tra l'altro è alla base del nuovo sistema operativo di Raspberry Pi 5, annunciata qualche giorno fa, che ho preordinato, vediamo quando arriverà. e quindi una macchinetta del genere vi permette di crescere, diciamo, come informatici e come persone. Poi, se non vi frega niente, lasciate perdere, nessuno vi obbliga. A proposito di portatili, poi, vi faccio vedere, guardate qua, guardate che roba ho preso. Purtroppo, purtroppo, questo è uno di quei prodotti che, in foto, dal vivo sono molto meglio, perché in foto questa colorazione, diciamo, perde brillantezza, perde vita, invece dal vivo sono molto più pop. Questo è un APC 1025CE, l'ultimo modello uscito da Asus, l'ultimo modello premium uscito da Asus, disponibile in varie colorazioni, ce ne sono altre che sono molto più rare, non sono riuscito ancora a trovarle ai prezzi che dico io. Questi hanno l'Atom N2008, che era quello che supportava i 4 GB di RAM, e con un BIOS modificato anche 64 bit. L'ho preso perché finalmente ho trovato una persona che me l'ha venduto a 2 lire, con la sua scatola, nuovo praticamente, e ci ho messo Alpine. Qua, però, ho tolto il disco interno. Non va tutto benissimo, perché questa piattaforma qua poi è stata sviluppata da Intel per pochissimo tempo, e poi è stata, dopo sono arrivati gli Atom, quelli quad core, la serie Z, quelli che si mettevano nei tablet, vi ricordate? E quindi per questa piattaforma qua, che poi ha la scheda grafica GMA500, si trova poco e niente, è un po' un casino fatela girare, ecco, per dirvela in breve. Quindi, se volete un netbook per smanettare, uno degli altri che vi ho detto in passato, sono molto più, più... Però volevo, qua, voglio, anzi quando avrò tempo, voglio farci un sistema che gira il RAM, che viene caricato il RAM all'avvio, da chiavetta USB, con la WC, con questo sistema qua. Che secondo me, cioè, secondo me in 2 giga ci sta assolutamente, perché l'installazione di questo è 1 giga e 100, poi questa ha 4 giga di RAM e va bene. Però, senza WSCOD, forse solo con il browser, ma nemmeno perché poi il browser è che ti serve su un netbook, non ce la fa a muoversi. Però, con un'interfaccia grafica, sì. Ci voglio fare una RICE specifica e quando poi troverò il colore che voglio io, prenderò l'altro. Tra l'altro, per... Questo veniva venduto come RAM saldata, poi in realtà non era così. Se tu smontavi tutta la scheda, sul retro c'era lo slot della RAM. E chi fu il primo a scoprire questo? Io! Se voi andate online, c'è un mio video di una vita fa, in cui mi metto là, ne smonto uno. che posso finalmente passare a sfilare del tutto la mia scheda madre. Eccola qua. Per manovrarla meglio, avrei bisogno di scollegare anche qualche cavo del monitor, ma vedo che non c'è bisogno perché basta semplicemente girarla e fare in questo modo. Ed ecco, il nostro ricercatissimo slot per la memoria RAM. Eccolo qua. Vabbè, vabbè, vabbè. A proposito di ricarica, come vi dicevo prima, vi ho accennato prima, io sto continuando a comprare questi affaretti qua, no? Vedete? Questi cosettini. Oh, eccolo. Questo c'è al puntino rosso perché è quello per un compito che ho comprato ieri, che sta qua sotto. Vi faccio vedere giusto così. Ve lo faccio. È un Asus, però ci sto facendo, ci voglio fare una modifica, una modifica non hard, cioè sulla scocca e mettendoci dei pezzi di un altro computer poi vi farò vedere. E questi, sto comprando, insomma, questi attacchini per caricarli poi con la USB-C e ho anche comprato online questo affare qua che praticamente è un cavo, vedete? Un cavo USB-C con un attacco particolare e poi ha tutti questi cosi qua che vedete, sono tutti connettori possibili e immaginabili. Oh, quanto è bella l'infadratura con questa Fujifilm. E qui ci sono un po' di tutti, li ho comprati perché li ho trovati su Wallapop a 10 euro. Non funzionano con tutti, cioè non tutti i portatili sono compatibili con questi adattatori qua. Purtroppo anche il piccolo Sony che sta qua sotto non è compatibile, ci vuole il suo alimentatore, però molti sì. Le PC sì, quello che ho comprato là sotto sì e questo mi permette di gestire tutto meglio. Però la cosa che voglio farvi vedere è che per gestire tutti questi portatili, dato che poi alla fine ho sempre macchine grosse, macchine da smanettare e veramente con gli alimentatori non ne posso più. Qua sotto voi non lo vedete ma c'è un contenitore con tutti gli alimentatori che non uso e l'altro giorno l'ho guardato è pieno. Ah, mi stavo dimenticando una cosa che ho fatto adesso che ho visto là, dopo ve la faccio vedere. In breve, mi sono fatto mandare questa cosa qua. che è un caricatore 300 watt. Vedete? 300 watt. Ogni porta ha il power delivery fino a 140 watt. No, anzi 100, 100 e 140. Una bomba. E un Ugreen. Vedete? 300 watt. Costruito benissimo. Pesa tantissimo. Piccolo però, vedete, lo potete portare in giro benissimo. Vi arriva in una bella confezione con un bel cavo, non solo il cavo, vabbè, il cavo USB-C. Bello telato, bello frigo, ma anche il cavo di alimentazione bello spesso e tutto il resto perché quello è fatto per essere collegato e messo lì. E questa roba qui adesso me la integrerò bene all'interno della scrivania qua, della postazione perché con quella io voglio caricare tutto. Con quella riesco a caricare tre portatili contemporaneamente e anche roba grossa come il Tinkpad per dire o comunque portatili che hanno bisogno di fino a 140 watt. E tanta roba 140 watt su un affare del genere. Tantissima roba. In più mi hanno mandato questo che è diciamo la sua versione la sua versione piccola, vedete? Con due USB-C e una USB e soprattutto sopra tac, vedete? sopra c'è la ricarica wireless compatibile anche con iPhone che si inclina in questo modo e anche questo bello pesante costruzione bella bella davvero arrivano belle confezioni c'è un bel investimento in tutto questo. Faccio anche vedere le scatole così potete tirar fuori qualche altro dettaglio che sicuramente l'ho dimenticato perché sono dispositivi che dal punto di vista tech ecco sono molto avanzati ovviamente ricarica rapida ovviamente chip di protezione per il calore per il surriscaldamento insomma sono buoni sia su laptop sia su portatili su, scusate sui smartphone volevo dire ma anche gli orologi gli ebook reader insomma tutto quello che ha la USB-C il nuovo iPhone se lo avete e poi questa cosa qua vabbè ve l'ho fatto vedere prima che è veramente veramente guardate quanto si regola bello questo l'avevo preso perché ci voglio mettere sopra un tablet sotto con la testiera però quando mi è arrivato ora che lo vedo pesante così cioè voglio dire guardate ci metto il timpad oh eccolo guardate qua lo posso usare come monitor e poi sotto ci scrivo vi lascio tutti i link sotto in descrizione per approfondire quello che mi stavo dimenticando di farvi vedere è là sotto non ve lo posso far vedere perché non lo posso staccare non l'avevo preparata questa roba maledizione è un Think Center M600 teeny tiny piccolo compatto minuscolo un diciamo un mini pc chiamiamolo mini pc fanless che ho trovato su mercatini a poco ho venduto il mio vecchio dell fx 170 che mi ha supportato veramente per anni con con pi all quello è un pochetto più potente perché ha un n 3050 se non ricordo male un cellero n 3050 o un 3010 non mi ricordo con 4 giga di ram aggiornabile e con 16 giga di rom saldata più la possibilità di mettere una sata e tutto il resto insomma è una piattaforma molto più più potente dietro a un sacco più di porte ha un bellissimo dissipatore interno passivo quindi fanless è poi un think center quindi tutta una serie di bios specifici per fare le robette una sola gigabit ethernet che al momento gira con alpine linux e a di guard ho messo ho messo a di guard per cambiare un po' a provarla a differenza di pi all così giusto per fare per fare un test in realtà là dentro ci vorrei mettere qualcosa di routing o di servizi di rete un pochetto più avanzati vi ricordate quel progetto che ne parlai anni fa no anni fa no l'anno scorso probabilmente perché dentro qua sto aggiornando la linea internet e se Dio vuole fra poco ho fatto la richiesta di attivazione e avrò la fibra perché io al momento sono con una DSL a 30 mega perché nonostante la fibra sia praticamente qua fuori la porta però questo palazzo è collegato direttamente ad un'altra parte dopo mille prove un tecnico mi disse questo e quindi più di quella non va una DSL che è 30 35 mega così una roba veramente pessima che adesso tra l'altro non mi costa nemmeno poco perché se la pagassi due lire dici vabbè mi arrangio ma mi costa quanto costa una DSL normale una linea normale e adesso quindi con il passaggio a fibra ne voglio approfittare per mettere lo scatolotto della fibra da una parte ripassare dei cavi per dividermi meglio tutto e quindi speaker diciamo roba smart in una VLAN il telecamere quando sono accese in un'altra VLAN io ho il mio computer isolato con una sottorete passando ad un altro router una wireless diciamo per gli ospiti che voglio usare per i computer che attacco così e stacco quando me li mandano roba veloce una wireless invece generica per tutti insomma voglio dividere un po' tutte queste cose qua e quello a fare là mi servirà per tirare su due o tre servizi di rete sto anche pensando a quale router sistema se farmi una roba da solo con OpenVRT o prendere uno tipo di quelle cose senologi che hanno le VLAN ci devo un po' pensare però ecco il primo passo è stato prendere quello a fare là e metterci ad guard va che è un amore chiaramente con le piattaforme che ha gira tutto benissimo posso attivare il massimo livello di log massime cavolate e vorrei fare in modo che tutto giri in RAM anche lì perché tanto c'è Alpine lo posso fare così non mi brucio la SSD però ancora non l'ho fatto ho detto tutto sì sì ho detto tutto mi sono passati poi qua tra le mani altri portati che poi ho venduto alcuni anche sul canale Telegram vi ricordo perché spesso mi scrivete quando ho qualcosa da vendere di mio che compro e poi voglio dar via lo metto sul canale Telegram andate là il canale Telegram non è un canale di annunci con Amazon queste porcate qua è un canale dove scrivo quello che mi va quando mi va a volte sono link a volte sono cavolate mie comunque lì cerco sempre di mettere tutte le tutto quello che che butto fuori tipo anche i link giorni fa ho scritto un auto per Alpine sul sito su pressappoco sul post su blog e l'ho messo là e ogni tanto quando ho qualcosa da vendere lo metto là qualcosa che voglio vendere con voi insomma che sono contento di dare a voi anziché metterlo su qualche mercatino a caso e quindi se volete seguitela ho preso sono passate delle belle robe da qua ho preso un Surface Laptop 2 in edizione Rosso Borgogna che alla fine del mondo non l'ho mai visto ma fa parte di quei computer come vi dicevo prima per le pc che dal vivo sono molto più belli rispetto a quello che perché dipende molto da quanto il colore da come il colore ti rispara in faccia alla luce ci sono computer che sono sempre belli metti Mac metti Macbook Pro quella linea là secondo me è bellissima proprio per quel motivo la riflette sempre bene la luce come lo metti lo metti è fotogenica si può dire sono dei prodotti che invece solo dal vivo sono belli quando li vedi in foto sembrano scuri sembrano smorti e questi Surface Laptop in edizione Rosso Borgogna secondo me sono bellissimi sono veramente veramente belli tra l'altro l'alcantara di questi modelli si usura come tutte l'alcantara di tutti i Surface Laptop però qua diventa diciamo bordo scura non diventa nera brutta o gialla peggio come nella versione grigia quindi se ne trovate uno prendetelo perché sono veramente belli e vabbè vabbè era per dirvi ho detto tutto ci aggiorniamo i link sono sotto ci sono altre cose ma poi le vedrete sul canale grazie se siete arrivati fin qua ciao ciao ciao